Uno spettacolo è di gioia, divertimento, dello stare insieme e quando li vedremo laggiù sul rettilineo ragazzi, ragazzi intendo voglia a tutti, non si pagano gli applausi, non si paga nulla, è tutto gratuito, voglio sentire la piazza veramente con un rumore assordante, con un rumore che ci entusiasmerà, alziamo i volumi, alziamo i volumi ed è la squadra dei vittiboli, il primo campo, il primo campo è un cambio un po' decisamente troppo in testa che anche adesso e tutte le altre scuole terme, poi occupa tra quasi di ultimi che si amicizia e ora sono le tre puntate e i paurosi. Grazie a tutti, il primo è il primo, allora maggiore al primo, ma tutti, questi ragazzi, tutti ragazzi, quando siamo iniziato a fare il progetto che si vanno a fare, noi tutti Grazie. Grazie.